Io sono Simone Rugani, suonerò stasera con Matteo Rocchi alla viola e faremo un programma concentrato tra l'ultima parte dell'Ottocento e la prima parte del Novecento, anche se i compositori Bridge e Bowen che suoneremo nella prima parte del concerto poi hanno vissuto principalmente tra le due guerre e ne hanno subite le conseguenze, soprattutto Bridge è stato molto coinvolto dal periodo tra le due guerre. Il tema della pace invece sarà per noi rappresentato dalla sonata di Brahms, la seconda sonata per viola e pianoforte di Brahms, che è uno degli ultimi brani scritti dal compositore, l'ultima sonata e intera scritta dal compositore tedesco, che ha avuto una vita estremamente tormentata, ha avuto una guerra interiore potremmo dire e in questa sonata trova in qualche modo una quadra della sua esistenza e una pace interiore che si può trovare principalmente per noi almeno nelle ultime, nelle variazioni, soprattutto nella penultima variazione dell'ultimo movimento. È un programma a cui teniamo molto, contiene appunto un pezzo molto famoso come la sonata di Brahms, spesso suonato, che fa parte del repertorio più importante per la formazione di viola e pianoforte e la sonata di Bowen e i due pezzi di Bridge che sono meno suonati e ci fa molto piacere presentarli e speriamo di farli conoscere al pubblico e che a loro piaccia e che poi vada a risentirli e approfondire questi due compositori.